C'è qualcosa per te, qualcosa per te. No, perché dopo la miniera può succedere di tutto, insomma, eh, quindi... Io hai ragione, cioè hai ragione, questo è un premio che ti viene dato dalla città. A me? Ti viene dato dalla città, da loro, che rappresentano oggi la città. Premio alla carriera al presentatore Luca Di Nicola, ideatore storico organizzatore del Festival Città di Avezzano e premio Civiltà de Marsi, con stima e riconoscimento da parte di quanti fra enti, sponsor, artisti, amici, collaboratori e cittadini li sono accanto da ben venti anni. E io che cosa vi devo dire, ragazzi? Veramente, se un presentatore dice che è senza parole, vuol dire che non può fare il presentatore, però veramente io in questo momento, quando ho visto che uscivi con un altro premio, poverina, l'ho anche fulminata da lontano, povera Clarissa, stupenda, come la mamma che l'ha fatta, e invece ha detto, no, ma forse ho bisogno del sindaco, ma al sindaco glielo abbiamo dato. Grazie, grazie. Questi sono stati alcuni i tuoi amici, promotori, che hanno sentito, si sono raccordati con la città e con tutti e hanno voluto donarti questo. Grazie. Grazie a te. Grazie a te, io lo alzo così allora, grazie a tutti, grazie di cuore, grazie, grazie sindaco. Grazie.